E' calato il sipario sulla prima edizione del festival Voci in Tour e vediamo com'è andata questa prima bella avventura ideata, voluta, pensata da Mino Ferrandino. Innanzitutto Mino, da dove è nata questa idea? A me è nata dalla mia follia, ecco, sognavo magari da piccolo di arrivare a Sanremo, sono arrivato a Voci in Tour, va bene, cioè è così che è nata l'idea. Mi sarebbe piaciuto creare per Ischia un evento grande, bello, che potesse far divertire tanti ragazzi, coinvolgere il pubblico e cercare di far bene. Sembra che ci siamo riusciti. Se dovessimo tracciare un bilancio così, velocissimo, com'è andata? Velocissimo, positivissimo. Non si può dire ma lo dico lo stesso. Positivissimo, cioè nel senso che non mi sarei mai aspettato tutto questo clamore. Speravo, ci speravo, ma veramente sono felicissimo, contento. Poi se dovessi scendere nei dettagli faremmo mattina, perciò adesso ti dico solo, va benissimo così. Intanto che i nostri telespettatori di mercoledì, mercoledì continuano a guardare le puntate che si sono assommate fino all'ultima dell'altra domenica, poi aspetteremo la seconda edizione. Andiamo dalla vincitrice, la prima vincitrice di questo Voci in Tour della prima edizione, Maria Teresa Federico. Innanzitutto l'emozione di aver vinto questo concorso. È grande, è enorme, io sono felicissima perché prima di tutto ringrazio Emilio Ferrandino perché è stata una bellissima iniziativa. Io sono stata molto contenta di aver partecipato e sono felicissima perché ho avuto anche la possibilità di partecipare insieme a delle persone capacissime e prima di tutto delle persone umili e molto umane e sono stata molto felice. Varia umanità, avete creato un bel gruppo, si è creato veramente un bello spirito di corpo tra voi cantanti. Che cosa vi resterà adesso che sono giusti i riflettori? Una grande amicizia, un grande spirito di fratellanza e un grande e bel ricordo. E Maria Teresa Federico, cantante, cosa farà adesso? Continuerò, non molerò. Credo che questa è la mia strada, almeno fino ad ora sono sicura di questo. Ci proverò finché non sarò sicura ancora di più al 100% del fatto che io devo continuare e devo realizzare ciò che è il mio sogno. I principali fans chi sono? Mamma e papà? Naturalmente, poi c'è mia sorella che mi segue anche se studia a San Napoli e mi segue lo stesso. Poi ci sono le mie nonne e poi il mio ragazzo, il mio maestro che mi dà molta fiducia. È lui la prima persona che dietro le quinte c'è tutto il lavoro con lui. E poi naturalmente i miei compagni, i miei amici e i miei colleghi cantanti. Allora in bocca al lupo a te e a tutto il gruppo, ci vediamo alla seconda edizione. Dovremmo riprendere da dove abbiamo lasciato quest'anno. Sì. E poi ci vediamo alla prossima. Grazie.